Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con il giornale radiolocale. Da ieri sera fino a venerdì 29 aprile l'ANAS ha deciso di chiudere al traffico le due canne della Galleria Tempio di Giove a Terracina in entrambe le direzioni. Le chiusure impatteranno relativamente sul traffico perché non riguardano tutta la giornata ma solo gli orari notturni, in particolar modo dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino successivo. La chiusura rientra all'interno dei lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle gallerie che permettono di evitare il traffico del centro di Terracina entrando e uscendo dal territorio del sud pontino. Il noto poeta e critico d'arte Libero Delibero nato a Fondi nel 1903 scomparso a Roma nel 1981 adesso può tornare nella sua città natale. Nelle scorse ore infatti il Tar del Lazio della sezione distaccata di Latina ha dato ragione al ricorso presentato dal pronipote di Delibero che ha impugnato un provvedimento del comune di Patrica in provincia di Frosinone dove Delibero è attualmente seppellito. In questo modo ha fatto sapere l'erede di Delibero. Il poeta Fondano può tornare nella sua terra così come aveva lasciato scritto nel proprio testamento. Barriera e chiappa rifiuti sul fiume carigliano. Ormai dovrebbe volerci davvero poco a tornare sull'argomento. Nelle scorse ore è stato il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti che ha annunciato che è questione di qualche settimana affinché inizino i lavori anche sul garegliano così come sono iniziati e stanno avendo anche un successo quelli sul Tevere a Roma. I lavori avranno luogo nel territorio di Minturno per installare una barriera antiplastica. Si tratta di un vero e proprio strumento che permette attraverso dei filtri e delle reti di recuperare la plastica che scorre nei corsi d'acqua evitando che poi questi confluiscano a mare. Uno dei migliori pizzaioli al mondo è di Fondi. Parliamo di Massimo Leone della pizzeria La Canadese, un posto d'onore per il giovane pizzaiolo del Sud Pontino che nei giorni scorsi si è classificato secondo al mondo per pizza classica e miglior pizzaiolo emergente under 30 al campionato del mondo pizza senza frontiere ideato dalla rivista di enogastronomia Ristorazione Italiana. Dopo tanti sacrifici ha dichiarato il giovane pizzaiolo un'emozione indescrivibile. Nei giorni scorsi è stata affermata la convenzione tra il comune di Terracina e le attività commerciali che hanno scelto di aderire al servizio di erogazione di certificati anagrafici online. Attualmente sono cinque le attività convenzionate in cui poter richiedere i certificati. Molti possono essere richiesti proprio direttamente presso le tabaccherie della città recandosi presso le attività autorizzate in possesso di un documento di identità e chiederne il rilascio. Per quanto riguarda invece la carta di identità fanno sapere dal comune il necessario recarsi all'ufficio anagrafe dell'ente. Questa era la nostra ultima notizia. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale Radio Locale.